Leo, vorrei salutare la voce di, mi devi aiutare un po' te, Danai Gurira, di The Walking Dead, Jennifer Garner di Atlas è un film che ho fatto e si chiama Cloud Atlas, e poi Paperina, perché Paperina ti sei divertita Paperina la faccio ancora, ti diverti a farla? Sì sì, mi gufano un pochino il personaggio, perché dicono prima o poi invecchierai e lo dovrà fare qualcun altro E invece no E invece no Siamo là sul pezzo, giustamente, perché la fa benissimo